Scatta la nuova normativa per il calcolo dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per gli inquilini dell'Ater sono subito dolori. In via Longhena ad Abano Terme c'è un'intera palazzina Ater i cui condomini sono sul piede di guerra per gli aumenti che si sono ritrovati a dover pagare nei giorni scorsi. Succede che ci sono un sacco di pensionati, di persone che hanno lo stipendio di 1.400 euro e gli hanno portato l'affitto a 400, 450, 350. Non eravate stati avvertiti di questa realtà? No, no. Quando l'avete scoperto? Adesso che ci hanno mandato questa lettera qua sarà 15 giorni, una settimana sarà. Per molti degli inquilini il canone è quasi raddoppiato e i condomini di via Longhena temono di non riuscire a pagare tutte le spese con le pensioni e i pochi soldi che hanno messo da parte in una vita di lavoro. Ci è arrivata questa lettera che dobbiamo pagare 410 euro al mese da 2,60 che pagavamo. Gli inquilini sono disperati e si sono rivolti alla nostra emittente per far sentire la loro voce. Non sappiamo cosa fare, vi abbiamo chiamato a posta. Hanno conteggiato i 10.000 euro di pensione integrativa che abbiamo pagato per 10 anni. Abbiamo girato la segnalazione all'atter di Padova e ora attendiamo una risposta. Sappiamo però che questa nuova situazione è dovuta all'applicazione della nuova normativa sul calcolo dei canoni, entrata in vigore il primo giorno di luglio in tutta la regione.